buongiorno buongiorno la domanda è questa perché comprare questa suzuki ignis invece di una panda 4x4 o di una novità di questo stesso salone di parigi ossia la opel carl rox le do 60 secondi per rispondermi il cronometro parte adesso ignis è il pioniere o la pioniera dei suv ultra compatti un segmento che si inaugura che viene fondato da suzuki ignis che ha la lunghezza o la cortezza se mi permetti questo è un neologismo di una panda 3 metri e 70 circa ma lo spazio all'interno di tutt'altro tenore addirittura i sedili posteriori scorrevoli permettono di dare spazio ora ai bagagli ora le gambe dei passeggeri ancora la tecnologia ibrida ancora le 4x4 all grip un'esclusiva suzuki e la tecnologia sulla sicurezza dotata di due telecamere che controllano lo stato di concentrazione del pilota meno 20 direi che già gli argomenti sono sarebbero sufficienti se non che l'equipaggiamento tipico che ci si aspetta da una suzuki sarà super completo con grande valore e costi ragionevoli grazie Ok.